Lettura del giorno 5 gennaio 2023 nel tempo di Natale Noi siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo Figlioli, questo è il messaggio che avete udito da principio che ci amiamo gli uni gli altri non come Caino che era dal maligno e uccise suo fratello e per quale motivo l'uccise? Perché le sue opere erano malvagie mentre quelle di suo fratello erano giuste Non meravigliatevi fratelli se il mondo vi odia Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli Chi non ama rimane nella morte Chiunque odia il proprio fratello è omicida E voi sapete che nessun omicida ha più la vita eterna che dimora in lui In questo abbiamo conosciuto l'amore nel fatto che egli ha dato la sua vita per noi quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il proprio cuore come rimane in lui l'amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua ma con i fatti e nella verità In questo conosceremo che siamo della verità e davanti a lui rassicureremo il nostro cuore Qualunque cosa esso ci rimproveri Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla abbiamo fiducia in Dio Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio Salmo 99 Acclamate il Signore voi tutti della terra Acclamate il Signore voi tutti della terra Servite il Signore nella gioia Presentatevi a Lui con esultanza Acclamate il Signore voi tutti della terra Riconoscete che solo il Signore è Dio Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi Suo popolo e greggio del Suo pascolo Acclamate il Signore voi tutti della terra Varcate le Sue porte con inni di grazie I Suoi atri con canti di lode Lodatelo, benedite il Suo nome Acclamate il Signore voi tutti della terra Perché buono è il Signore Il Suo amore è per sempre La Sua fedeltà di generazione in generazione Acclamate il Signore voi tutti della terra Alleluia, alleluia Un giorno santo è spuntato per noi Venite popoli, adorate il Signore Oggi una grande luce è discesa sulla terra Alleluia, alleluia Vangelo del giorno Tu sei il Figlio di Dio Tu sei il Re di Israele Dal Vangelo secondo Giovanni Gloria a te o Signore In quel tempo Gesù volle partire per la Galilea Trovò Filippo e gli disse Seguimi Filippo era di Bezzaida La città di Andrea e di Pietro Filippo trovò Natanaele e gli disse Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazareth Natanaele gli disse Da Nazareth può venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose Vieni e vedi Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro Disse di lui Ecco, davvero un'israelita in cui non c'è falsità Natanaele gli domandò Come mi conosci? Gli rispose Gesù Prima che Filippo ti chiamasse Io ti ho visto quando eri sotto l'albero di Fichi Gli replicò Natanaele Rabbì, tu sei il figlio di Dio Tu sei il re di Israele Gli rispose Gesù Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di Fichi Tu credi? Vedrai cose più grandi di queste Poi gli disse In verità, in verità io vi dico Vedrete il cielo aperto E gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo Parola del Signore Lodi a te, o Cristo